Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere la distanza tra due punti aventi una coordinata in comune. Quindi scopo della lezione di oggi sarà trovare la distanza tra due punti nel piano cartesiano. Non andremo a vedere il caso di due punti qualsiasi, ma andremo a vedere il caso di due punti che siano allineati o parallelamente all'asse delle ascisse, quindi se io disegno una retta passante per questi due punti questa retta sarà parallela all'asse delle ascisse, ovvero l'asse delle x. Oppure il caso in cui due punti siano allineati lungo una retta che sia parallela all'asse delle ordinate, l'asse del y. essenzialmente quindi andremo a vedere come si trova a distanza i due punti che siano allineati orizzontalmente o verticalmente. E per capire come fare, cioè per trovare un po' la regola generale per questi due casi, andremo a vedere degli esempi. Quindi consideriamo appunto due punti, due punti A di coordinate 2.1 e B di coordinate 6.1. Come potete vedere, entrambi questi punti hanno sia l'ascisse che l'ordinata positiva, quindi entrambi questi punti appartengono al primo quadrante, quindi in questo caso, come vedete, ho già disegnato solo il primo quadrante del riferimento cartesiano, quello con sia le x che le y positive. Di nuovo, io vi invito a mettere un attimo in pausa questo video, provare voi stessi a disegnare questi punti e vedere se li disegnate correttamente. Ed ecco qui i nostri due punti A e B, no? A è di coordinate 2, 2 vi ricordo della x, la scissa, e 1 è l'ordinata, e B è di coordinate 6, 1. Questo lo potevamo già vedere dalle coordinate che avevo dato precedentemente, però una volta disegnata la cosa è ancora più evidente. I punti A e B sono allineati parallelamente all'asse delle x e questo lo potevamo capire dal momento che hanno la stessa y, hanno la stessa ordinata. A questo punto, quindi, la nostra domanda è come troviamo la distanza tra questi due punti, ovvero la lunghezza del segmento A e B. Ora, molto semplicemente, voi potreste dirmi che questa distanza è pari a 4. E come ho trovato questo numero? Semplicemente andando a vedere che B si trova a 6, A si trova a 2, e ho fatto la differenza tra questi due punti. oppure qualcuno di voi potrebbe aver contato quante unità ci sono tra A e B. 1, 2, 3 e 4. Quindi io posso dire che la lunghezza del segmento AB, che vi ricordo, si scrive AB col cappellino sopra, sarà dato da 6 meno 2, ovvero 4. Ok? Allora, però, io mi pongo un problema. Questo è vero se io faccio, appunto, la coordinata più grande meno la coordinata più piccola. Però, in teoria, la lunghezza di un segmento non dovrebbe cambiare, se lo misuro, che so, da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Cioè, io dovrei ottenere lo stesso risultato anche se facessi questa coordinata meno questa. Però, se lo faccio, voi sapete benissimo, no, se faccio 2 meno 6 non viene 4. Viene meno 4. E una distanza negativa chiaramente non ha senso. Quindi, cosa possiamo fare per fare in modo che la differenza tra queste due coordinate, per essere più precisi, la differenza tra queste due scisse, di assentare lo stesso risultato, dobbiamo andare un attimo indietro a quando avete studiato i numeri relativi, numeri sia positivi che negativi. Cioè, un'operazione che ci permette di trasformare un qualsiasi numero in numero positivo. Questa operazione è quella che si chiama il valore assoluto. Andiamo a vedere un attimo di nuovo la definizione del valore assoluto. Il valore assoluto di un numero è il numero stesso senza il segno. Il valore assoluto si rappresenta con due stanghette verticali messe prima e dopo il nostro numero. E andiamo a vedere degli esempi. Per esempio, più 2, cioè il numero 2 positivo. Chiaramente, se lo metto davvero sotto, mi darà come risultato 2, vedete, senza il segno, che significa poi essenzialmente 2 positivo. Lo stesso se ho una frazione più 3 quarti. Il valore assoluto di più 3 quarti è 3 quarti. Interessante il caso dello 0. 0 è un numero che non è né positivo né negativo. Il segno non ce l'ha, quindi io scriverò che se il valore assoluto di 0 è sempre quello a 0. Ma quello che interessa a noi per oggi è cosa succede se faccio il valore assoluto di un numero negativo. Ecco, il valore assoluto di un numero negativo trasforma quel numero in un numero positivo, perché il valore assoluto di meno 11 è 11, il valore assoluto di meno 7 mezzi è 7 mezzi, il valore assoluto di meno 8,1 è 8,1. Ecco, usando il valore assoluto possiamo calcolare la distanza tra due punti senza cadere nella trappola e di ottenere un numero negativo. E vediamo come nel prossimo esempio. Consideriamo infatti due altri punti, chiamerò di nuovo a e b, di coordinate rispettivamente 3,2 e meno 4,2. Come vedete ora non ho due numeri e due punti esattamente nello stesso quadrante. Questo è sempre nel primo quadrante, questo, spero che passiate un paio di secondi per ragionarci, si trova nel secondo quadrante. Questo quadrante qui infatti ha la x negativa e la y positiva. Di nuovo vi invito a mettere un attimo in pausa questo video e a provare voi stessi a disegnare questi punti nella loro collocazione corretta. Ed ecco qui i nostri punti a e b. Come potevamo intuire dalle loro coordinate, ovvero dal fatto che sia a che b avevano la stessa y uguale a 2, ecco di nuovo abbiamo due punti che sono allineati parallelamente all'aste di x. Quindi andrò a rispondere alla domanda di prima, qual è la distanza tra i punti a e b? E chiaramente la risposta è 7, lo possiamo vedere qui semplicemente contando quanti spazi ci sono dalla parte di b, che sono 4, e quanti spazi ci sono dalla parte di a. Però cerchiamo di fare le... Ci sono 3. Cerchiamo di fare le cosine a modo, quindi vediamo di operare come abbiamo fatto prima. Noi abbiamo visto la distanza, quindi a b, la lunghezza del nostro segmento, sarà data dalla ascissa di a, che è 3, meno l'ascissa di b. Attenzione, l'ascissa di b è negativa, quindi dovrò mettere a parentesi meno 4. Ora voi sapete, un meno davanti alla parentesi cambia il segno al numero che c'è dentro, quindi la negativa entra positivo, qui diventa 3 più 4, e la cosa non mi stupisce, viene fuori 7. Ora, andiamo al discorso del valore assoluto. Vediamo se funziona, se faccio invece di fare x di a meno x di b, se faccio x di b meno x di a. Allora io scrivo meno 4 meno la coordinata di a, che è 3. Meno 4 meno 3 fa meno 7, ma ora qui mi ricordo di usare il valore assoluto. Lo potevo usare anche qua sopra, ma intanto veniva un numero positivo. Valore assoluto di meno 7 è, come avete visto prima, 7. Quindi, usando il valore assoluto, io ottengo lo stesso risultato, sia che faccia la coordinata di a meno la coordinata di b, sia che faccia la coordinata di b meno la coordinata di a. Quindi, nella regola generale della distanza di due punti allineati parallelamente all'asse di x, userò sempre il valore assoluto. Siamo pronti quindi per scrivere la nostra regola generale, quindi la distanza tra due punti allineati parallelamente a x, all'asse dell'ascisse. Ed ecco qui la nostra regola, che chiaramente è molto più lunga a descrivere che non poi a scrivere come formula, no? La distanza tra due punti allineati parallelamente all'asse dell'ascisse, ovvero l'asse x, è uguale al valore assoluto della differenza tra le loro ascisse. Ok? Quindi, ad esempio, la distanza tra a, allora in questo caso uso due punti qualsiasi, quindi scriverò x di a, y di a, e b di coordinate, x di b, y di b, è dato da ab uguale x di b meno x di a. Chiaramente, essendoci valore assoluto, posso anche scrivere x di a meno x di b, perché so che il risultato non cambierà la cosa importante che va fatta la differenza tra queste coordinate. Procediamo con lo stesso sistema per trovare la distanza di due punti che siano allineati verticalmente, e consideriamo quindi punti a2,1 e c2,4. Come vedete, abbiamo di nuovo due punti nel primo quadrante, quindi ho disegnato solo il primo quadrante, e come vedete, che in questo caso e c hanno in comune la scissa, la x, e hanno differenza dell'ordinata, e quindi mi aspetterò che vengano fuori due punti allineati verticalmente. Di nuovo, concedetevi qualche secondo e provate a disegnarli voi stessi. Ed ecco cosa viene fuori, a di coordinate 2,1 e c di coordinate 2,4. Mi pongo la stessa domanda, quant'è la distanza tra c e da a? Posso contare, anche giusto per verificare che poi eventualmente il risultato verrà lo stesso e chiaramente la distanza a c è uguale a 3 e come ho proceduto? Di nuovo, cosa vado a fare? Vado a scrivere che a c sarà uguale alla y di c, questa volta, cioè 4, meno la y di a, che è 1. 4 meno 1 uguale a 3. Chiaramente io mi pongo il problema, se io facessi 1 meno 4, è 1 meno 4, cioè la x di a meno x di c, questo avviene a meno 3. Di nuovo, è l'assurdo di avere una distanza negativa. A questo punto io mi aspetto di già, di poter usare il valore assoluto, anzi, per coerenza lo metto anche qui, intanto non cambia nulla, no? Valore assoluto di meno 3, che fa? chiaramente 3. A questo punto, penso, abbiate capito il giochino, quindi procediamo molto velocemente, consideriamo due altri punti, a di coordinate 3, 2, e b di coordinate 3, meno 3, come potete capire, in questo caso non sono lo stesso quadrante, a si trova ancora nel primo quadrante, c si troverà nel quarto quadrante, perché la x positiva e la y negativa. ed eccole qui infatti disegnate, come vedete a nel primo e c nel quarto quadrante, mi pongo la solita domanda qual è la loro distanza, ma a questo punto conosco la procedura, scrivo che a c è uguale, a questo punto scrivo direttamente il valore assoluto della y di a, della ordinata di a, quindi 2, meno l'ordinata di c, che è meno 3, doppio negativo fa positivo, quindi 2 più 3 viene il valore assoluto di più 5, cioè 5. Chiaramente il risultato non cambia se faccio prima la y di c, cioè meno 3, meno la y di a, perché chiaramente mi verrà valore assoluto di meno 5, ma il valore assoluto mi restituirà il numero senza il segno, e quindi avrò di nuovo 5 e provo la validità della mia procedura. A questo punto siamo pronti per scrivere la regola generale e la regola generale per la distanza tra due punti allineati parallelamente all'asse delle ordinate all'asse y è la seguente, la distanza tra due punti allineati parallelamente all'asse delle ordinate all'asse y è uguale al valore assoluto della differenza tra le loro ordinate. notate come è esattamente lo stesso linguaggio che ho usato per la regola precedente semplicemente sostituendo ad ascisse ordinate. Qui dove c'era asse y c'era asse x e chiaramente la distanza tra due punti qualsiasi a di coordinate x di a y di a e c di coordinate x di c y di c sarà data da valore assoluto di y di c meno y di a che è perfettamente uguale al valore assoluto di y di a meno y di c Nel prossimo video andremo a vedere finalmente come si trova la distanza di due punti qualsiasi nel piano cartesiano Spoiler alert c'è Pitagora ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini grazie a tutti